Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi comincio direttamente da qua perché... Non mi sembra che abbiamo registrato. Comunque, in questo episodio faremo il primo boss, cioè Ripper Room. Ah sì, se vi vedete il Cortex diverso e il Kart diverso è perché sono un colpo, non ho salvato. E per rifare le piste ho sblocato questo Cortex, però il Kart ancora. Purtroppo. Ma lo rivedremo sicuramente. Questa è un po' di male. Se non si non si è un po' di male. E' un po' di male. Ci sono delle cose che si esplosano. Ecco, che poi sarà un po' di male. Perciò si non mi sembrava che mi sembrava, poi io non mi sembrava. E poi non è not male a raffreddarsi in estante. Cioè, non è quasi per io che per ammazzare. Il freddo scompare del tutto. Diventiamo liquido per quanto fa caldo. Cioè, mi fa restare anche per prendere i raffreddori in estante. Beh, un pochettino. Cioè, non è che siamo mica in estate. L'acqua un pochettino a un certo punto potrebbe sentire fuori. Prendo dentro l'acqua. Un po'. Magari è quello come potrebbe prendere i raffreddori. Quindi... Raffreddato! Ma ci riesco a registrare. Per lo più a giocarci. Vieni. andiamo a prendere il trofeo. Siamo presi. No, non ci casco, il profeo è il nostro signore Allora, quarto trofeo per noi Adesso è un minuto qui vicino per riuscire a leggere ciò che dice Ripper Roo Adesso è per dormire Vediamo un po' che ci dice E' così fallo da schiare Vorrei essere io ad appuntare Oxide alla grande cara Vedrai che la guida spedicolata che ho Non ho fatto il tempo a leggere Avevo visto una zanzara e mi sono un attimo distratto Perfetto Battiamo Il nostro primo boss Ah, eccolo che comincia con le sue rama Che tiene qui E niente Allora, non ci facciamo problemi a essere morti Allora, non ci facciamo Allora, non ci facciamo Allora, non ci facciamo io lo so che il boss oh è cegato è cegato è cegato è cegato troppo è cegato è caduto nella mia pnp adesso la gara è tutta notica mi ricordo che dopo sta serie inizia Luigi Smash On 2 vabbè che vorrei finire Luigi Smash On 2 prima che esca Luigi Smash On 3 per quello speriamo che non lo rimandano al 2020 vabbè anche se lo rimandano non è che ci sarebbe un problema visto che sarà tipo l'inizio di gennaio oppure a febbraio non è mica giugno del 2020 vabbè eccolo perdente come sei sei più fallo di me devi avere qualche rotella fuoriposto se pensi di poter battere OXIDE 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 come dicono nell'originale ecco una chiara buona fortuna ne avrai bisogno eh eh ne avremo bisogno ecco fatto che abbiamo la prima via la via del villaggio di Papua congratulazioni hai aperto una nuova area qui troverai altre quattro piste buona guida grazie grazie Uca Uca e vai ma prima di andare da Uca Uca no lo so che mi serve il numero più stabilito di legume vabbè salvo ok eccoci al mondo di Papua allora allora eccoci la nostra prima coppa Parco Cocco eccoci qui Parco Cocco dove c'è stata l'introduzione iniziale quali Panucì va pura Ok, sei pura Luma, pura lentitudine. Comunque. Ok, ci si mette pure quella. Ah sì, dopo il video di noi sono due, mi comincerò da in sentiero, di lasciare i video vecchi, è quello di Crash 2 che lascerò io, però lo ricomincerò. Da capo. Quindi, signori, nuova serie dopo Luigi Smash 2, sempre se non esce Luigi Smash 3, se no inizia Luigi Smash 3. No, 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 sei l'inazzo, sei l'inazzo, sei l'inazzo, sei l'inazzo, sei l'inazzo, sei l'inazzo, sei l'inazzo. Stammi lontano, polvo. Il tropeo è mio. Non è mai. Non è mai che vi. Boom! Perfetto. Complimenti! Hai vinto un trofeo! Più Frutti Vumpa raccoglie, più andrai veloce col cap! Lo saffiaron, lo saffiaron benissimo, ma lo faccio in vista! No! Naci! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.